Guardi, qualsiasi dato che segni un più a livello di occupati non può che renderci contenti e felici perché alla fin fine non è che si gioisce all'interno di un paese se si continua a sprofondare nella crisi. Quindi il problema è capire se questa tendenza riesce a essere strutturale o meno. Noi temiamo di no, per quale motivo? Perché l'operazione del Jobs Act è andata ad incidere, a nostro avviso, sulla parte del costo del lavoro sbagliata perché se io non ho occupati e cerco di creare degli occupati mettendo delle contribuzioni fittizie per quello che riguarda il futuro pensionistico anziché ridurre il costo della fase della tassazione vera e propria del reddito non riuscirò mai a creare un volano vero e proprio che mi abbassa in termini assoluti il costo del lavoro e quindi mi rende competitive le imprese. Questa è la differenza di quella che è la nostra visione su come rilanciare in qualche modo il tema dell'occupazione rispetto a quello che ha fatto Renzi. Detto ciò, ripeto, nessuno si può dire contento se il trend è negativo. È un segnale positivo? Sì, cerchiamo in qualche modo che questo segnale positivo sia strutturale. Non ci sembra di vedere però nell'azione del governo, troppo impegnato a farsi selfie o a cercare degli applausi ma poi alla fine va a prendersi dei fischi, a dare questa base strutturale per la ripresa. Non lo vediamo perché le aziende, al di là di questo piccolo contentino del Jobs Act che, ripeto, incide solo sulla parte dell'Inps e non su quella dell'IRPEF, dei lavoratori dipendenti che sarebbe la parte più... che costerebbe anche zero sostanzialmente lo Stato anzi, darebbe un gettito positivo. Cioè, oltre questo, non vediamo nulla di sostegno vero e proprio alle imprese perché continuano a essere tartassate da sistemi e da controlli che spesso e volentieri si sovrappongono con i vari enti, continuano a non esserci un interlocutore unico all'interno dello Stato o all'interno degli enti locali per quello che riguarda lo sviluppo. Io ho l'esempio di un'azienda sul mio territorio che vuole assumere 150 persone e sono sei anni che sta cercando di allargare il proprio stabilimento ecco, se noi non arriviamo a, in qualche modo, a velocizzare questo tipo di sostegno allo sviluppo delle imprese, tutto quanto è di positivo in questi numeri che vengono dati ogni tanto rischia di essere un fuoco di paglia. Ho capito. Ricordiamo, Rossi, che gli industriali...